Con la firma della convenzione in regione prende corpo il secondo gruppo di azione costiero abruzzese denominato Costa Blu, il GAC, il cui rappresentante Maurizio Ferrari, presidente dell'ente porto di Giulianova a capofila del progetto, ha ottenuto i finanziamenti europei collocandosi in posizione utile nella graduatoria dell'avviso pubblico finalizzata all'attuazione della misura 4.1 del FEP, Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. La convenzione, unico caso in Italia, prevede la nascita di un GAC attraverso il quale saranno realizzate azioni di valorizzazione che lo renderanno parte attiva nella promozione turistica del litorale da Silvi a Martinsicuro. Diamo delle risposte importanti a un comparto fortemente in difficoltà, soprattutto rilangiamo l'immagine di un abruzzo che sulla pesca intende diversificarsi e dare così un valore aggiunto a questi prodotti e soprattutto magari inserire alcune attività collaterali importanti. Questo peraltro è una strategia su cui non stiamo lavorando molto perché come lei giustamente ricordava siamo al secondo GAC, stiamo lavorando per la riscrizione del nuovo FEP 2014-2020 ma soprattutto in consiglio fra qualche settimana andrà all'esame la nuova legge sull'IT turismo e sull'IT pesca, quindi credo che l'intero comparto vada rivisto per una crescita e uno sviluppo diverso della costa abruzzese.